Svolgo questa professione con grande emozione, anche curiosità, perché per me ogni giorno è una sfida nel infondere piacevoli rapporti con i clienti, dimostrare anche che è un piacere informatizzarsi attraverso la carta e voglio così invitare i miei clienti, perdonatemi e consentitemi non proprio non le dico, ma è uno spazio di immagine e di cultura, come lo chiamo io, dove qui possono trovare dei magazine di carattere straniero, sia di arte grafica, di arte contemporanea, ma anche di storia, di moda e altri generi molto particolari. Invito proprio i clienti a leggere, a conoscere altre riviste e proprio perché per me leggere attraverso la carta significa anche tracciare un autoritratto di se stessi, quasi una sensibilità, una ricerca della propria sensibilità, quasi un atto creativo. Voglio dimostrare che attraverso la carta c'è un modo consapevole di memorizzare la lettura e la notizia migliore che attraverso invece gli apparecchi tipo smartphone o l'iPad. Creo anche degli eventi, degli eventi culturali, dove ho presentato alcuni libri di poesia, di medicina e anche di alimentazione. L'ultimo evento che è stato fatto è stata una signorina molto in gamba, che ha questa passione di suonare l'arpa, che l'ho corteggiata per due mesi proprio perché venga a suonare l'arpa qui in questo piccolo spazio dove 22 persone hanno così proprio avuto il piacere di sentire un'arpa proprio suonata, proprio dal vivo, quindi un suono molto armonioso, molto romantico. Ecco, mi piace dimostrare che non c'è solo spazio nella lettura, ma anche c'è lo spazio anche nel saper ascoltare, nel sapere conoscerci anche, perché in quel piccolo spazio qua ci si conosce, c'è un modo per poter proprio dimostrare chi siamo.